Grazie a tutti. Grazie, grazie. Guarda che è successo, mi hanno dato un premio importante, guarda qua, si è scatenato l'inferno. Quindi vuol dire che era ben meritato, si è scatenato l'inferno? Diciamo che io non posso dirlo io, il fatto che me l'abbiano dato mi fa molto molto piacere, mi fa molto onore. Senti, ma la simpatia che cos'è per te? Guarda è una cosa pericolosa perché a volte si dice che dietro alla simpatia si nasconde magari l'osco, io mi auguro che sia invece un'empatia con gli altri. La simpatia è qualcosa che ti rende comunicativo, è una cosa che chi ce l'ha deve ringraziare sempre il cielo, secondo me. Senti, a cosa stai lavorando in questo momento? Adesso sto scrivendo il film che dovrò girare. E ci puoi dire qualcosa? Ancora no, ancora presto perché lo dovrei girare a settembre, quindi ne parlerò tra un po'. Un film per la televisione o per il cinema? No, no, cinema, cinema. In bocca al lupo allora, grazie. Viva il lupo, viva il lupo e viva la lupa. Grazie.